buongiorno a tutti lei è quella con la luce io l'ho spenta vedete lì illuminami così si capisce che sono io ciao ragazzi ciao allora abbiamo parcheggiato a prarotto sopra condove lo so che non mi vedete più è però è solo per non abbagliarvi e stiamo andando verso patanua e poi vediamo perché come sentite dal rumore vi faccio vedere illumina un ecco questi siamo appena partiti come vedete per terra è già tutto quanto neve e ghiacciata quindi l'alba come vedete è lì lì in fase di arrivo ma noi come sapete siamo un pochettino a pazzarella e quindi siamo venuti qua molto presto e siamo partiti ora iniziamo questa bellissima camminata scaldiamoci subito bene bene perché la temperatura all'arrivo era di meno 4 gradi e non penso che su faccia tanto più caldo quindi adesso mollo il video così riesco a infilare meglio i guanti perché sennò mi si congelano le dita e continuiamo la camminata anzi iniziamo la camminata e vediamo dove arriveremo buona giornata ragazzi state con noi e mi raccomando fino alla fine ciao ciao buongiorno buongiorno come vedete siamo baciati dal sole è appena arrivata l'alba come avete visto dalla foto stiamo proseguendo ormai siamo a non lo so un po di camminata penso intorno ai 40 minuti saremo 44 minuti 44 minuti di camminata l'alba è proprio mi giro lì dietro di noi quella che ho appena fotografato bellissimo ragazzi come vedete dal percorso è piuttosto inne barra ghiacciato però siamo ci stiamo scaldando sicuramente è abbastanza in salita e devo dire come percorso non è proprio in piano però almeno così ci danno stanno ci saranno una bella scaldata e adesso col sole caduto arriva penso che troppo ci toglieremo la giacca perché inizieremo a sentire un po il caldo meglio così continuiamo il percorso e continuate a seguirci ciao grazie a tutti allora davanti a noi lassù quella puntina che vedete è il patanua e in panoramica se giriamo di qua guardate che meraviglia la punta del nostro primo trenino di quest'estate il rocciamelone è bianchissimo ragazzi è tutto vivo di mare e poi il resto del panorama vi faccio una carrellata ma è da togliere il fiato stupendo ragazzi guardate che meraviglia poi la giornata è proprio bella fredda ma bellissima meraviglia il sole sta salendo sempre di più e ci scaglia da dietro ciao buongiorno come vedete siamo in piena neve neve ghiaccio siamo ramponati perché sì è un po' un po' un po' così e non migliora perché è un po' così però ovviamente stiamo cercando di arrivare dove dobbiamo arrivare è bella impegnativa eh con la neve e il ghiaccio ci siamo prima fermati a mettere le ghette e poi fermati a mettere i ramponi bella impegnativa però beh ragazzi che vi devo dire chiudo con la mia voce anche se so che vi piace tantissimo vi mandiamo un saluto e continuate a guardare il video perché andiamo avanti ma vi faccio a breve una panoramica di quello che si vede con Rocciamelone che fa da maestro qui di fronte a me ed è qualcosa di meraviglioso ciao ragazzi a dopo ciao 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 a tutti dietro di me la vetta del patanua come vedete è inaccessibile è completamente esposto e non che dovessi io come vedete sia meglio quindi no ci sono dei momenti in cui bisogna accettare che è meglio fermarsi e così in primavera uno può farne altre che dita e comunque è stato fino a qua molto bello il lunella che quel quella montagna che abbiamo guardato prima adesso mi rigiro eccolo la c'è il lunella quella vetta lì con una croce sopra anche quello faceva parte delle tappe di oggi ma come vedete è veramente molto molto innevato il percorso e c'è ghiaccio e stiamo faticando più che altro perché ripeto siamo in dei punti come quello che vedete dove sono che non è il massimo Sandra è lì sotto che mi aspetta e adesso proseguiamo ma in discesa anche perché ci siamo fatti quattro ore perché in realtà il percorso era più lungo dovuto alla nera e al ghiaccio bene o male con i ramponi si andava abbastanza tranquilli però è giusto ripeto fermarsi quando è il momento di fermarsi seguiteci per la discesa che così almeno scoprite se ci arriviamo ma dovremmo al massimo andiamo un pochettino giù di sederino ciao ragazzi a dopo fermati un attimo facci vedere cosa c'è i piedi i lamponi le ghette aspetta un po wow e come ti senti con quelli ve la sicura a scendere bene anche perché la discesa è un percorso pianeggiante vero facciamo vedere e giù di qua quello che vedete guardate punto da bacchettino vedete scendiamo giù di lì facciamo questa costina qua così bella col di rupino lì bellissimo tutto ghiacciato ma noi che romponcini chi ci ferma più e allora ci vediamo giù in tutti i sensi intanto o col sudere o con i ramponi arriviamo ciao eh sono anch'io eh ragazzi che figo ciao buongiorno a tutti che svegliamo sono avvicinato nessuno appunto c'era qualche capriolo tanti caprioli ne abbiamo beccati almeno un 8 10 oltre a quello che stavano per tirare sotto con la macchina mentre arriviamo al buio poi arrivati su c'era il cacciatore che era interessato ah sì il capriolo va raggiù e raggiù e poi se n'è andato se n'è andato a cercare sarà ancora lì che lo cerca perché ormai e quindi allora a parte la neve e il ghiaccio ci è piaciuto molto il posto molto molto e il percorso è vabbè non è difficilissimo è bello in salina ad alcuni punti sfiane in altri quindi in realtà fatica riposo fatica riposo bello quindi fattibile per una persona con un minimo di esperienza nell'escursionismo temperatura che in questo momento è di meno 0,5 gradi e quando siamo partiti era di meno 4 secondo noi sulla vetta potevamo essere intorno a meno 8 o meno 10 c'era tanta neve sì c'erano come avete visto nel video 30-40 centimetri di neve la punta l'ho saltata perché ho preferito come si dice un alpinista che torna a casa e un alpinista che può riprovare e quindi la prossima volta riproverò anche perché potevo tentarmela perché sono un pochettino estreme un pochettino pazzoide ma sono arrivato a 10 metri da quella croce la vedevo e ho detto no non è giornata anche perché non ci sono mai stato e quindi non conoscevo neanche la via poi magari la via era lì davanti a me facevo quattro passi giravo attorno alla roccia c'era troppa neve non si vedeva niente non sapevamo dove andare e quindi per oggi siamo contenti così ci siamo divertiti tantissimo abbiamo fatto 6 ore e 40 minuti di camminata e quindi la domenica sicuramente l'abbiamo sfruttata a pieno come piace sfruttarla noi adesso ce ne andiamo a casa e ci aspetta la mia grandissima cuoca lei e sì perché le sue origini pugliesi non mentono sulla cucina e quindi faremo il pranzo cena facciamo sì un pranzo cena ma non pugliese perché andremo giù di polenta perché vogliamo scaldarci le manine mangiando una buona polenta e quindi ci vediamo domenica prossima scalate basta lo sapete quindi fino fino a forse il primo dell'anno forse il primo dell'anno chi lo sa la prima scalata dell'anno che può portare fortuna però fino a lì no sicuramente no quindi diciamo che per adesso dedicheremo tutte le nostre domeniche a delle belle escursioni adesso sabato prossimo le abbiamo appena ordinate prendiamo le ciaspole quindi inizieremo magari proprio domenica prossima a fare una bella ciaspolata da qualche parte quindi mi raccomando continuate a seguirci perché ve ne faremo vedere delle belle delle bellissime e poi speriamo che vi piacciono i video più che altro non vogliamo essere tanto dei tecnici dei tutorial per qualcosa che non siamo degli esperti ma speriamo sempre di portare che ne so un'idea un consiglio qualcuno non sa cosa fare il weekend guarda video dice guarda che posto guarda che belle foto guarda che bei paesaggi andiamoci questo è quello che cerchiamo nulla di che non cerchiamo nient'altro a noi piace farlo e ci piace condividere con le altre persone che ci guardano e quindi buona serata e buona settimana ci vediamo al prossimo weekend ciao ragazzi ciao ciao iscriviti al canale ciao 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 ciao